Canto numero 50 Canto numero 50 Canto numero 50 Canto numero 50 E il Signore sia con voi Carissimi, come state? Non vedo i vostri sorrisi dietro queste mascherine, ma gli occhi sono sorridenti. Ecco, camminiamo insieme. Volevo darvi una buona notizia. Adesso un po' per volta cerchiamo di ricominciare tutte le cose, la vita della nostra comunità, no? E una categoria che hanno tanto sofferto in questo periodo sono i ragazzi, quel periodo specialmente che erano chiusi, poverini. Anche i genitori un po' sopportarli, ma anche loro, ecco, diciamo. E quindi bisogna fare delle cose per i ragazzi, vero? E quindi faremo anche un momento in oratorio a fine mese per i ragazzi della terza media. Ma, bella notizia, pensate, da settembre, ottobre, eccetera, verranno tre chierici salesiani, cioè tre seminaristi che si preparano a diventare sacerdoti, sacerdoti salesiani come discepoli di Don Bosco. Uno si chiama Marco, l'altro si chiama Daniele, il terzo non sappiamo come si chiama. E verranno la domenica pomeriggio specialmente e allora faremo tante attività per i ragazzi del primo, secondo e superiore, terza media, proprio quell'età più facile per i genitori, vero? Quella che è proprio la migliore, no? Ma è logico, i ragazzi a volte sono un po' disperati perché stanno crescendo. E noi vogliamo proprio in quell'età fare delle cose per loro, non abbandonarli. Siete contenti? Siamo fortunati? Facciamo un applauso al Signore che ci fa questa grazia, eh? Naturalmente, ringraziamento a chi già segue questi ragazzi che continueranno, i nostri adulti guidati da Misa, Misa Cristiana, con tutti gli animatori. Non sono tanti di quantità ma sono grandi di qualità, eh? Ripeto, non sono tanti di quantità ma sono grandi di qualità. E allora affidiamo tutto questo alla Madonna che possiamo veramente fare ancora di più perché i ragazzi si sentono a casa. Che l'oratorio diventi luogo dove loro si sentono proprio a casa. Che i genitori devono venirli a prendere, ma per favore, non stare sempre lì, eh? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. E ti chiediamo perdono, Signore, se in questo periodo forse ci siamo un po' dimenticati dei ragazzi, non abbiamo fatto abbastanza per loro. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, i Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, 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 in eccessi Deo. Gloria, gloria, in eccessi Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Preghiamo. Accresci in noi, Padre, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola che continui a seminare nei solchi dell'umanità perché fruttifichi in opere di giustizia e di pace e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo il profeta Isaia. Dal libro del profeta Zaccaria Dal libro del profeta Isaia Così dice il Signore Come la pioggia e la neve sendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca Non ritornerà a me senza effetto senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata Parola di Dio Prendiamo, grazie Al salmo rispondiamo Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli Tu visiti la terra e la disseti la ricolmi di ricchezze il fiume di Dio è gonfio di acque Tu prepari il frumento per gli uomini Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli Così prepari la terra Ne irrighi i solchi Ne spiani le zolle La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli Coroni l'anno con i tuoi benefici I tuoi solchi stillano abbondanza Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli I prati si coprono di greggi le valli si ammantano di messi gridano e cantano di gioia Tu visiti la terra, Signore e benedici i suoi germogli Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi L'ardente aspettativa della creazione infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità non per sua volontà ma per volontà di colui che l'ha sottoposta nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi Non solo ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli la redenzione del nostro corpo Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Canto numero 8 Il Signore è la luce che vince la notte gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria che egli salì su una barca e si mise a insegnare. Tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cade lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il cento, il sessanta, il trenta per uno. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha radici in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, questi dà frutto che produce il cento, il sessanta, il trenta per uno. Parola del Signore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo. Questa parola mi ha aiutato a perdere i giudizi che avevo verso gli altri e la maggior parte delle volte le persone si sono dimostrate più disponibili e è nata una nuova unità che ha portato frutti insperati. Tutti coloro che erano credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Questa parola mi ha aiutato a donare, a condividere qualcosa di mio con gli altri e la maggior parte delle volte chi ha ricevuto è diventato più generoso. Non temere. Continua solo ad avere fede. Questa parola mi ha aiutato nei momenti in cui mi scoraggiavo, in cui mi sembrava che tutto crollasse, a non mollare, a non abbandonare le persone, a continuare ad esserci e ogni volta ciò che era crollato è rinato di nuovo. Il Signore vi faccia crescere nell'amore vicendevole e verso tutti. Questa parola mi ha aiutato a fermarmi, a dare tempo alle persone, ad ascoltarle, a fare un ringraziamento, un complimento, in modo che le persone si sentissero più amate da me. E chi si sente amato, lo sappiamo, migliora. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Questa parola mi ha aiutato a non essere troppo attaccato alle mie idee, a non parlare troppo di me, a mettere in luce le cose belle degli altri, a cercare di essere umile. E ogni volta che riesco ad essere umile si crea unità attorno a me e nascono cose nuove. ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa parola mi ha aiutato a cercare di indovinare i desideri degli altri, a fare qualcosa per renderli felici, a non chiudermi in me stesso e sempre ne è scatturita la gioia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Questa parola mi ha aiutato a eliminare dal mio cuore tutto ciò che non è amore per essere dono per chiunque incontravo senza paure. Nulla è impossibile a Dio. Questa parola mi ha aiutato a dare fiducia a chi mi aveva deluso a credere nelle persone a puntare su di loro e molte volte ho visto le persone cambiare quando sono debole e allora che sono forte. Questa parola mi ha aiutato a trasformare i miei momenti di debolezza i momenti di riflessione di ascolto di preghiera di dialogo con gli altri mi ha aiutato a chiedere consiglio e a chiedere aiuto e sempre Dio ha fatto nascere cose nuove da questi miei momenti di crisi. Potrei andare avanti con altre decine di esempi di frasi del Vangelo della Sacra Scrittura come questi che ho citato la parola di Dio è sempre così ti cambia la vita e cambia la vita di chi vive attorno a te e così nascono dialogo fraternità unità uguaglianza famiglia solidarietà valorizzazione delle persone è una piccola frase della parola di Dio piccola come un seme ma si incontra un terreno buono un cuore aperto e docile porta frutti grandi si trasforma in vita fa nascere pezzi di regno di Dio nella famiglia nella chiesa nella società se noi avessimo sempre un cuore accogliente la parola di Dio avrebbe già trasformato il mondo completamente ma non è così perché a volte il nostro cuore è duro come la strada è superficiale come il terreno sassoso è soffocato come il terreno infestato dai rovi quante volte ascoltiamo il Vangelo la parola di Dio eppure non porta frutto non cambia la nostra vita non ci rende protagonisti della rivoluzione evangelica e allora dobbiamo togliere i rovi e le pietre dobbiamo zappare la terra indurita per renderla morbida i problemi che ci portano a non lasciarci cambiare la vita dalla parola di Dio sono tre ripetiamo uno il problema dell'ascolto due il problema della fiducia tre il problema delle priorità la strada indica il problema dell'ascolto ascoltiamo la parola di Dio ma non con il cuore senza il desiderio di viverla senza curiosità senza stupore e allora ce ne dimentichiamo subito il terreno sassoso indica il problema della fiducia nella vita arrivano difficoltà responsabilità problemi scelte difficili da fare e noi ci spaventiamo cerchiamo soluzioni umane ai problemi e ci dimentichiamo che l'unica vera soluzione a tutti i problemi è vivere la parola i rovi indicano il problema delle priorità nella vita ci sono tante cose importanti anche i soldi e i beni materiali sono importanti ma la priorità la cosa più importante deve essere vivere la parola perché se tu dai più importanza a qualcos'altro sarà come un rovo che soffoca la parola e allora vi propongo un compito a casa provate a fare anche voi come ho fatto io prendete un foglietto e scrivete quali sono le frasi della sacra scrittura che più vi hanno cambiato la vita e scrivete anche perché poi magari potete comunicarvelo a vicenda e vedrete che gioia a scoprire che non siamo sempre pieni di rovi o di pietre o duri come una strada ma a volte siamo un terreno buono ma a volte Grazie. 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 Ascolta, Sì. Perché in questo tempo estivo possiamo trovare luoghi e spazi di silenzio. Ascolto e coltivare relazioni più distese, preghiamo. Ascolta, Sì. Per la Chiesa è in cammino nel mondo, perché annunci con fervore la presenza di Gesù nelle comunità di fede e accanto ad ogni uomo. Preghiamo. O Padre, rendi il nostro cuore terreno fertile per poter attuogliere e comprendere la Tua parola, affinché possa portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli. Preghiamo Per i disoccupati, per le loro famiglie e per tutti quelli che si trovano in grave disagio, aiutali a non scoraggiarsi dei fallimenti e dei terreni fecondi che hanno incontrato, perché il Signore sosterrà sempre chi confida in Lui. Preghiamo Allora, questo è rivolto a Don Alessandro. Ti ringraziamo, Dio, per aver donato a Don Alessandro, che ieri ha festeggiato il compleanno, la vocazione sacerdotale e per averlo mandato nella nostra comunità. Donagli tanta salute e forza e conserva la sua grande fede. Preghiamo Grazie Preghiamo 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 e nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzerà te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatta tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te creatore e padre per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Il Signore è Dio dell'universo, il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni e la tua nome, cosa buona, cosa buona, cosa buona, cosa buona, quello meraviglia. Sento, santo, 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 benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sento, santo, 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 santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi alla sua vita immortale. Rendi la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, mi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Il corpo di Cristo Canto numero 32 1 2 Grazie. 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 Allora, volevo solo darvi un piccolo avviso per dare un po' di respiro ai nostri volontari, no? Perché, come sapete, nella chiesa magari qui della Piana c'è un po' più di giro di volontari e anche a Castagneto, ma a San Genesio, a San Raffaele Alto c'è sempre la stessa persona che fa turno, una volta lui e l'altra volta pure lui. Allora, per questo motivo, nel mese di agosto, per dare un po' di respiro a questi volontari, non facciamo la messa a San Genesio alle 8.45 e a San Raffaele Alto alle 18.00 e la sospendiamo per queste domeniche di agosto, quindi fino a fine luglio ci sono e riprendono da settembre. Allora, ecco, preghiamo, mentre le messe alla Piana Castagneto, tutti uguali, preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione a questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Signore, che il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore andate in pace. Signore, che ci hai detto, che ci sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore e Spirito. Grazie a tutti